amiche amici bianconeri buongiorno a tutti e bentrovati qui sul mio canale venerdì 17 maggio contenuto che ovviamente è ancora dedicato alla situazione allegri juventus spaccatura insanabile ma la verità sta nel mezzo lo sviluppiamo insieme io come sempre l'invito ve lo pongo iscrivetevi al canale youtube astenate la capella notifica mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata sperando possa essere stata di vostra compagnia come ogni tanto ripeto mi piace però risottolinearlo non ho la verità in tasca non sono certamente io quello che può sancire stabilire determinate situazioni severe false giuste non giuste o quant'altro perché molto spesso trovo commenti di persone che mi seguono o da poco o che si soffermano sul titolo non ascoltano o ascoltano solo quello che gli fa comodo quindi è chiaro che questa è la mia opinione il mio pensiero vi porto anche quelle che sono le mie notizie che cerco di verificare di confrontare e quando ieri ho fatto il titolo mi rendo conto mi sono reso conto solo successivamente che poteva essere forse forzato allegri esonerato la ricostruzione ma allegri esonerato perché effettivamente così cioè la notizia che mi è arrivata ieri e che poi è stata rilanciata da tutti e che ho verificato insieme persone molto dentro al mondo juve è proprio che questo è avvenuto è avvenuto si trattava soltanto di definire così come adesso andiamo a completare un po tutto l'argomentazione i termini i modi dell'annuncio ufficiale ma allegri è esonerato quindi nessun titolo clickbait nessuna volontà di semplicemente ho raccontato nella ricostruzione l'accaduto l'avvenuto la un po la cronistoria per arrivare appunto all'esonero di max allegri poi se sarà l'esonero se sarà l'esonero momento per giusta causa adesso cerchiamo di approfondire ulteriormente perché diciamo in aggiunta a quello che vi ho raccontato nel contenuto di ieri sera devo dirvi che nella serata nella tarda serata di ieri ci sono stati degli ulteriori sviluppi se mi chiedete se allegri sarà esonerato oggi domani stamattina nel pomeriggio diciamo che in tal senso una certezza assoluta non c'è perché le informazioni che mi sono giunte sono a ieri sera che la proprietà nella figura proprio di john el can stesse valutando insieme a fidati collaboratori definiamoli così il da farsi è ovvio che il rapporto con la juventus tra massimiliano allegri è giunto al termine però il il modus per interrompere il rapporto era ancora ieri sera al vaglio proprio di john el can che si stava confidando con stretti collaboratori con persone assolutamente di fiducia perché nella giornata di ieri come vi ho detto è andato in scena un incontro tra la proprietà lo stato maggiore della juventus allegri e il suo staff e io vi ho raccontato che in quell'incontro non escludevo che si potesse essere anche arrivati ad una sorta di accordo nel senso l'avventura è finita il comportamento è intollerabile ci sarebbero gli elicrismi per la giusta causa noi vogliamo lasciarci nella maniera migliore possibile troviamo un punto d'incontro e questo io tendo a confermarvelo ed è stato confermato anche da altri giornalisti da giornalisti che questo potrebbe essere l'accordo per procedere mi è stato riferito e questo ve lo riporto che non si procederà per licenziamento per giusta causa perché la juventus riconoscerà ad allegri quanto dovuto o previo accordo quanto dovuto dopo questo accordo la spaccatura insanabile ma la spaccatura insanabile non soltanto tra allegri e la juventus è una spaccatura insanabile anche in seno alla tifoseria perché io mi rendo perfettamente conto che nel ricostruire nel raccontarvi quello che so che mi viene detto con diciamo questioni per le quali mi confronto con gente che vive molto dentro è molto vicino l'ambiente juve ve l'ho detto io comprendo molti di voi che commentano da tifosi da puri tifosi cioè proprio senza uno conoscere bene la reale situazione due senza il passaggio del volersi mettere tra virgolette in discussione sostituendosi a quello che può aver vissuto una persona per la quale voi fate sempre solo ed esclusivamente riferimento all'autostipendio percepito che è certo va messo nella sul piatto della bilanza in un computo di giudizio finale ma i giudizi che voi molto spesso emanate che dei quali ripeto se sono emessi con educazione io li rispetto ma non li condivido e l'ho detto sono sempre un po troppo superficiali perché immaginatevi voi pur lautamente pagati dalla vostra azienda dover lavorare in un clima ostile dove chi dovrebbe tra virgolette copriti le spalle darti supporto e collaborazione ti lascia solo alla lunga è una cosa che snerva e che rende il proprio lavoro difficile non consente di poter lavorare nella diciamo serenità e non né per te né per il gruppo squadra ma io ve lo dico solo perché è per farvi capire questa spaccatura insanabile in seno alla società con allegri ma anche in seno alla tifoseria tra chi non perdona nulla ad allegri e lo condanna e lo giudica e lo vuole assolutamente fuori e chi magari lo vuole fuori però comprende un po la situazione e quindi la verità sta nel mezzo la verità sta nel mezzo sia da un punto di vista del pensiero della tifoseria allegri in allegri out chi la vede in un modo chi nell'altro tra l'altro molto spesso non accettando che chi non ce l'ha con allegri ma abbia voglia di vedere qualcosa di diverso possa pensare in maniera differente da chi invece difende allegri a spada tratta sempre comunque io sono dentro abbastanza mortificato per la fine per l'epilogo della storia tra allegri e juventus perché io non sono mai stato un allegri out ho sempre stimato massimiliano allegri ho sempre pensato che allegri fosse un grande allenatore sono rimasto deluso da questo triennio e non ho avuto modo di dirlo ma l'epilogo a me personalmente fa male perché per me allegri meritava un epilogo migliore e molto probabilmente anche la juve come 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 blasone meritava il godersi una finale di coppa italia un trofeo in una maniera migliore per questo io non posso giustificare comunque un allegri che sicuramente era gonfio e ha lasciato esplodere tutta la sua adrenalina che aveva dentro non lo giudico per questo però non condivido certi gesti non tanto il fatto di essersi incazzato verso la tribuna cercando rocky o col quarto uomo per il quale c'era da fare un contenuto perché vi avevo voluto raccontare tutto quello che non si è detto che non è stato detto ma che abbiamo visto e chissà se ci sarà tempo di fare un contenuto di questo tipo a distanza di due giorni perché era bello farlo a caldo farlo ieri ma poi l'esplosione della situazione allegri mi ha reso difficile il poter realizzare questo contenuto quindi non tanto lì perché lì allegri si è dimostrato unico vero difensore del proprio lavoro della juve dei quei ragazzi quando la società non ha mai messo la faccia e oggi addirittura prendiamo delle scuse della juventus al presidente della figici gabriele gravina mi sta bene che la juventus ponga le scuse perché si è andati oltre in certi atteggiamenti ok mi può anche star bene ma mi sta bene nel momento in cui la stessa juventus che porse le scuse le pretende nel momento in cui viene continuamente affossata continuamente infangata continuamente vi li pesa invece no e allora questo non va bene però torniamo al nostro argomento la verità sta nel mezzo perché dicevo tra la società e allegri sta nel mezzo tra la tifoseria la verità comunque a mio modo di vedere sta sempre nel mezzo perché c'è chi pur ammirando allegri abbia anche la volontà la voglia di poter vedere qualcosa di diverso poi siamo tutti credo perfettamente consapevoli che se non ci sarà un cambio a livello dirigenziale societario di comportamenti ma anche proprio di figure che mancano beh per chiunque arriverà che sia tiago motta o pinco pallino sarà sempre veramente una grande difficoltà e questo massimiliano allegri lo sa ma concludo quando vi ho detto ieri che allegri non ha gradito certe situazioni no non le ha gradite perché è vero lui molto probabilmente sapeva che poteva essere davvero il suo ultimo anno la juventus con l'arrivo di cristiano giuntoli ma parliamoci chiaro il conto un conto è saperlo un conto è venirne a conoscenza attraverso persone terze attraverso i giornali sarebbe molto meglio una sana schiettezza una sana franchezza di come stanno le cose e guardate come è andata ad esempio al bayern come andata ad esempio al barcellona con allenatori che avevano comunicato il loro addio a fine stagione hanno lavorato in maniera sicuramente più serena col gruppo squadra con la dirigenza cosa che poteva secondo me avvenire anche alla juventus ma lì avviene solo nel momento in cui la società è una società forte una società con persone figure competenti che sanno quello che fanno che sanno come ci si deve muovere quello che come dicevo ieri in un mio contenuto su x oggi manca tremendamente alla juve e allora per quanto la frattura sia insanabile e la verità stia nel mezzo quello che vi posso dire aggiornamenti appunto postumi al mio contenuto di ieri sera è che molto probabilmente si procederà al comunicato nella giornata di oggi dico probabilmente perché certezza non vi è però le valutazioni erano su come andare a chiudere perché john el can avrebbe voluto evitare un ulteriore danno d'immagine so che vi può sembrare strano che io vi dica questa parola danno d'immagine associata a john el can ma questo è come ha raccontato mirko nicolino sul suo profilo social x nella giornata di ieri all'incontro tenutosi in continuanza ieri erano presenti anche vertici adidas perché adidas è uno sponsor oltre che tecnico importante per la juve è uno sponsor di diversi giocatori importanti in seno alla juve nonché di max allegri e quindi è ovvio che tutto questo baccano tutta questa situazione che si sta sviluppando attorno a certi individui e alla società a tante a tanti soggetti non fa piacere e avrebbero preferito che fosse gestita in maniera più soft ben sapendo che questa sarebbe stata comunque l'ultima stagione di max allegri sulla panchina poi è bottato è scoppiato si è reso protagonista di gesti che non possono essere tollerabili neanche quelli verso giuntoli e lo dico candidamente nonostante l'ostracismo come si diceva una volta e come dovrebbe tornare ad essere i panni sporchi devono essere lavati in casa e quindi all'interno di quattro mura dove gli occhi del mondo evitino di vedere ditemi la vostra ci sentiamo presto come sempre fino alla fine ciao ciao